Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per presentare la ventunesima edizione del Mercatino degli Angeli, fiore all'occhiello di questo paese, un mercatino che in questi vent'anni ci ha dato delle soddisfazioni enorme, anche propedeutiche a quello che l'associazione mette in scena ogni cinque anni, quindi la passione di Sordevolo. Quest'anno ci saranno molte novità, molti espositori diversi, molti espositori nuovi, molti obbisti, abbiamo anche oltre a tutto allestito una pista di pattinaggio dentro l'anfiteatro, nei pressi dell'anfiteatro dove resterà aperta qualche mese, non oltre le date del mercatino, quindi per usufruirne tutti quelli che potranno venire a Sordevolo. Noi abbiamo un punto di ristorazione, il Ristoro Pratevalle, dove la nuova gestione si dà molto da fare, quindi abbiamo questa opportunità, un bar all'interno del mercatino dove potrete assaporare tutti i prodotti tipici, il nostro classico vin brûlè, il Babbo Natale aspetta tutti i bambini e poi ci saranno molti eventi sonori e musicali dentro l'anfiteatro, nel palco del comune di Sordevolo. Una novità che abbiamo quest'anno, grazie all'amico Beppe Gandolfo, il giorno 19 sarà presente con una troupe di Italia 1 per far vedere il mercatino a livello nazionale e parlare anche di ristoranti e prodotti tipici locali, quindi sarà qua nel nostro paese il giorno 19 a girare questi filmati, quindi per noi è veramente importante, lo ringraziamo pubblicamente. Lui farà servizi per Italia 1 Mag, quindi siamo già andati su Italia 1 durante il periodo della passione e è ritornato a Sordevolo, lo ringraziamo ancora per la sua presenza.